Ciao amici di Italia Top Games, buongiorno, venerdì 16 settembre. Noi marchigiani siamo reduci da una giornata orrenda, un po' più a nord di dove sono io, abbastanza più a nord, però sempre nella regione Marche, verso l'Anconetano, ci sono stati anche sette morti per il maltempo. Anche qui dalle mie parti è stata una giornata bruttissima, alluvioni temporali, tutta la notte lampi, insomma, una roba che io onestamente in 47 anni non ho mai visto. Qualcuno si ostina a dire che il clima non sta cambiando, vabbè. Per quello che vedono i miei occhi è tutto lì, io delle cose che ho visto negli ultimi due anni non le ho viste mai, comunque vabbè, sembra che di queste cose in pochi si interessino anche nella campagna elettorale. Ma, vabbè, chiusa parentesi, scusate, ma è stata abbastanza scioccante la visione della giornata ieri sera, davvero una giornata straordinaria sotto certi punti di vista. Scusate l'off topic, ma ecco, a sapere anche che sono morte sette persone, tra cui un bambino pure disperso, un bambino piccolo, a pochi, a 50-60 km da casa mia, mi ha fatto un certo effetto. Va bene. Chiusa parentesi e torniamo ad eFootball. Siamo qui a raccontarci un po' le ultime novità. Prima però i soliti quattro grazie, ragazzi. Grazie se vi vorrete iscrivere al canale, dai che ci mancano un po' più di dieci persone per arrivare a 13.100, così facciamo scattare il contatore YouTube che dopo i dieci mila scatta solo ogni cento. Grazie se vi vorrete abbonare, grazie se vorrete mandare delle offerte, grazie se vorrete fare i vostri acquisti su Amazon passando per i link di affiliazione presente all'inizio della descrizione del video. Se non lo trovate, il link ve lo mando io. Se vi volete iscrivere al gruppo di Facebook o al gruppo di Telegram, vi li mando io, il link chiedete e vi sarà dato. Il link di Amazon è importante perché a voi non costa un centesimo di più rispetto ad andare direttamente sulla app o sulla home page, ma cliccando sul link affiliazione a noi ci date davvero un grande supporto e a voi non costa un centesimo di più sostanzialmente. Quindi grazie per le iscrizioni, grazie per gli abbonamenti, grazie per le detenzioni, grazie per gli acquisti su Amazon passando per il link di affiliazione. Allora, oggi vorrei parlare di due cose molto rapidamente ma comunque importanti. Allora, ieri in tanti mi avete scritto in merito a questo Carryover Details della versione 2.2.0 di Football 2023. Ne ha parlato anche Renan Galvani, è presente nel sito ufficiale, ma già ieri io vi ho detto guardate che non è ancora localizzato il sito, come viene localizzato vi riporto tutte le informazioni sul blog di PES Italia, però vi avevo già detto comunque che tutto sta ambaradan, è per dire che nel passaggio dell'update 2.2.0 di novembre che ci auguriamo porti, novità sostanziali, contenuti importanti, tutto sta ambaradan è per dire che Konami dovrebbe perdere alcune licenze. Non so quali, probabilmente sono legati a campionati minori, non lo so perché i giocatori della FIF Pro, ci auguriamo, vengano lasciati tutti perché ne sono tantissimi. e si potrebbe perdere per strada qualche giocatore e qualche allenatore, che non so bene come sarà poi rimborsato ai giocatori, ma dovrebbe essere una roba veramente veramente minore. Qui ci dice questo e tutto il resto ci dice che tutti i nostri contenuti, contratti, le monete, i GP eccetera saranno tranquillamente portati dalla versione 2.0.0, anzi la 2.1.0 perché uscirà a ottobre la 2.1.0 la 2.2.0 che uscirà a novembre. Quindi niente di che ragazzi, non vi preoccupate se l'inglese lo masticate poco veramente questo sta dicendo. Ecco, potrebbero non esserci più alcuni avatar pure, ma robe veramente, è tutto questo, ci dice tutto questo per tutto il tempo, questo l'avrai, questo non l'avrai, eccetera, ma ripeto, sono cose davvero minori. E poi, grazie a Vincenzo Rubino, grazie a tutti gli altri segnalatori più o meno seriali che lo hanno fatto, però Vincenzo è stato il primo e quindi cito lui, c'è l'anteprima della squadra del Club Selection che ci sarà lunedì prossimo in eFootball 2023, il prossimo 19 settembre. E come avete letto dal titolo, sarà una squadra italiana. Quando scoprirete tra pochissimo la squadra italiana immagino che ci saranno delle battute ironiche perché hanno preso una squadra italiana molto importante ma la propongono nel Club Selection esattamente in uno dei momenti forse peggiori nella storia recente di questa squadra. Per farla breve, ragazzi, la squadra è la Juve, o per meglio dire, Piemonte, Bianconeri o Black & White se preferite. E qui possiamo vedere che i giocatori che ci saranno lunedì sono Blaovic, 85, Di Mariello Catelli, 83, Rabio e Bremer e Bonucci e Scesni, 82, McKennie, 81. Scesni la scelta non è proprio delle migliori visto che è infortunato, mancava solo che inserissero anche Pogba e poi la frittata era piena. Piena. Ragazzi, lo so, Konami a volte si presta a facile ironia, però mi immagino che questa scelta di inserire la Juve magari è stata fatta un mese fa, due mesi fa, tre settimane fa, quattro settimane fa, quando, come dire, non si poteva certo sapere di un deficit di risultati, indubbiamente, che stanno colpendo la squadra bianconera. Quindi, ecco, come dire, mi auguro e voglio sperare che si tratti sostanzialmente di una pura e semplice coincidenza. A volte anche con FIFA ci sono state le coincidenze infelici. Ripeto, in questo caso la scelta della squadra si presta a una facile ironia, ribadisco, per il momento sostanzialmente molto negativo della squadra bianconera, però mi vado a pensare che, ripeto, è stata fatta senza, cioè, in maniera fortuita la scelta. Quindi forse per una volta, forse, forse, non è colpa di Konami, era sostanzialmente stato programmato, magari una software house un pochino più dinamica lo avrebbe spostato di un mese e avrebbe proposto un club selection, perché non è che ci vogliono proprio questi anni di programmazione per cambiare la club selection, però, come dire, diamogli il beneficio del dubbio, per una volta, ecco, come dire, non c'è una concausa, c'è una causa fortuita, diciamo, non c'è una volontà, come dire, di proporre qualcosa di poco proprio in questo momento storico. Noto comunque che i giocatori con 5 stelle sono Vlaovic e Locatelli, Vlaovic c'è pure valutazione D, Di Maria C, 4, Rabbio 4, BMW 4 e tutti gli altri 4. Certo, a questo punto, se Konami avesse fatto un guizzo di dinamicità, magari a posto di inserire Rabbio io avrei inserito Milik, che è un altro nuovo arrivato, però, vabbè, accontentiamoci di questo. Questo è quanto, quindi lunedì non aspettiamoci incredibili sorprese, se non nel Club Selection U, se non venga modificato all'ultimo, ma ci credo davvero molto poco, perché quando viene aggiornato il database difficile ci sono ripensamenti, ci sarà probabilmente un nuovo evento contro l'intelligenza artificiale e credo davvero, davvero poco altro. Però, 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 questo fine settimana, prima di lunedì, ci dovrebbe essere, no, c'è un evento dedicato ai football dal Tokyo Games Show. Non so dirvi se ci sarà un live streaming, se ci sarà vi fornerò tutte le informazioni per vederlo, però magari domenica, se non saranno orari strani, ci occuperemo di queste novità o nel video del mattino o farò un video ad hoc se queste novità saranno importanti e noi ce lo auguriamo, perché l'ho detto più di una volta, che dopo il primo giovedì di football 2023, questo football 2023 non ci sta proponendo niente di eclatante, niente di sorprendente e niente che possa neppure giustificare il cambio di nome, se non appunto un po' di aggiornamento delle rose, un po' di aggiornamento delle squadre, che tra l'altro non è neppure completo. Quindi ci auguriamo che questo football 2023 ci possa regalare delle novità importanti a breve. Un'altra questione che mi è stata posta anche in privato è il discorso di dire ma non è che il club selection viene fatto per tutte le squadre non licenziate, mentre quelle con licenza avranno tutte un loro pacchetto premium, pensando alla Roma, il Milan, l'Inter eccetera, l'Arsenal. Può essere però per intanto squadre come la Lazio, l'Atalanta, il Napoli non hanno ancora un pacchetto né premium né un club selection, quindi staremo un po' a vedere e sarebbe anche il caso che anche queste squadre venissero prese in considerazione, perché per me ci starebbe bene anche un club selection del Monza o un premium pack del Monza. Ma come dire, Lazio e Napoli e Atalanta sono tre squadre che lo meritano indubbiamente se c'è stato il Monaco, perché non l'Atalanta, perché non la Lazio, perché non il Napoli. Staremo a vedere ragazzi. Per il momento io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento a questa sera con il campionato, speriamo che la risalita in divisione 3 sia il più rapida possibile e provare l'ultima run in divisione 3 per arrivare in divisione 2 prima della nuova fase. Questa fase si conclude mercoledì 21. La nuova dovrebbe, perché con Konami non si sa mai dopo quella pausa che ancora lasciò tutti basiti, ancora non sappiamo quando riprenderà. Per il momento vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a questa sera, quindi al campionato. Se arrivano breaking news aspettatevi un video. Grazie per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. E grazie per essere arrivati fin qua. Ciao!